Il Ministero per i beni e le attività culturali ha premiato per l'anno 2019 l'attività di lirica, concertistica e danza del Teatro Municipale di Piacenza attraverso l'erogazione di un contributo pari a 539.088 euro. Il Ministero ha infatti pubblicato il decreto di attribuzione delle risorse assegnate ai teatri di tradizione, riconoscendo alla Fondazione Teatri di Piacenza per l'anno 2019 un aumento del 3% rispetto allo stanziamento iniziale dello scorso anno. Una notizia commentata con entusiasmo dal sindaco Patrizia Barbieri, che oltre a ringraziare il direttore artistico Cristina Ferrari e tutto il personale per la qualità dell'offerta culturale del teatro cittadino, ha sottolineato l'importanza di mantenere un fronte comune di sostegno locale all'attività della Fondazione Teatri, con quest'ultima che costantemente collabora a livello nazionale non solo con altri teatri di tradizione, ma anche con fondazioni lirico-sinfoniche. A questo proposito, è di questi giorni la notizia che il Teatro Carlo Felice di Genova ha inserito per la seconda volta nella propria stagione d'opera un allestimento prodotto dal Municipale di Piacenza. Dopo Luisa Miller, infatti, è ora la volta di un ballo in maschera, anch'esso prodotto nell'ambito del progetto Opera Laboratorio, con la regia di Leonucci. Prosegue inoltre l'accordo stipulato con il Teatro dell'Opera di Marsiglia, che dopo Simone Boccanegra riprenderà l'allestimento della Bohème, che inaugurerà a dicembre la stagione operistica del Municipale.